Accanto alla domanda che cos'è un concilio ecumenico? Un'altra rimbalzò nelle settimane che seguirono la notizia della indizione del concilio ecumenico da parte di Giovanni XXIII. La domanda era perché un concilio ecumenico? Certo, nella tradizione dei concili ecumenici della Chiesa Cattolica, una tradizione che venne riraccontata nei lunghi anni della preparazione al Vaticano II emergeva con forza l'idea che i concili venivano convocati quando c'era un problema da affrontare, una questione da derimere, soprattutto all'interno della Chiesa. E i concili si concludevano sempre con delle dichiarazioni con le quali si indicava là dove era la luce e là dove erano le tenebre, si indicava qual era la strada da seguire e quella che i cristiani non dovevano seguire. Erano sempre occasioni di condanna, una condanna che poi veniva recepita, riletta, talvolta anche modificata nel corso di altri concili, ma erano tempi in cui si definiva appunto il dentro e il fuori. Ma questo, questa dimensione del concilio ecumenico, venne immediatamente fin dalle parole che Giovanni XXIII rivolse ai cardinali romani raccolti nella sacristia della Basilica di San Paolo fuori del Mura il 25 gennaio del 1959, al termine di quello che una volta si chiamava l'Ottavario per l'Unità dei Cristiani. In quell'occasione, quando lui, Giovanni XXIII, volle far partecipi i cardinali presenti a Roma e dalla sua decisione, Giovanni XXIII fu estremamente chiaro. Il concilio che lui voleva indire non era un concilio, non doveva essere un concilio di condanna. Nasceva l'idea di convocare un concilio dall'osservare quella che era la realtà, una realtà che era tanto cambiata, che era in movimento, tanto cambiata da quei passaggi che avevano segnato la Chiesa del XXVI. Il movimento, e proprio di questo movimento, la Chiesa doveva farsi ascoltatrice, doveva farsi lettrice per dare non delle soluzioni, ma offrire una parola con la quale illuminare il cammino dell'uomini e delle donne e riaffermare la missione della Chiesa. Il 25 gennaio, in questo discorso, nel discorso che Giovanni XXIII rivolse ai cardinali riuniti in quel momento intorno a lui, a Roma, Giovanni XXIII volle indicare l'indizione del concilio Vaticano II come uno dei punti fondamentali del suo programma. Un programma che comprendeva anche la celebrazione di un sinodo, di un sinodo della diocesi di Roma. Un sinodo che, negli occhi e nella mente di Giovanni XXIII, doveva essere un'occasione per ricordare a tutti che il vicario di Cristo, il pontefice romano, era stato eletto Vescovo di Roma. Era il Vescovo di Roma in comunione con tutti i Vescovi di Roma, fin dal primo da Pietro. E poi, accanto a questi due momenti, l'indizione di un concilio ecumenio, che sarebbe poi diventato il Vaticano II, il nome venne deciso dopo da Giovanni XXIII, e alla celebrazione del sinodo romano, c'era poi anche la riforma del codice di diritto canonico. L'edizione del 1917 appariva agli occhi di Giovanni XXIII, come di tanti altri, un importante monumento che necessitava di tante tante modifiche, perché la Chiesa e il mondo erano profondamente cambiate. Le reazioni a questo programma, in particolare all'indizione del concilio Vaticano II, nel piccolo gruppo di cardinali romani intorno a lui, furono molto diverse. Gli studi recenti hanno mostrato come il Papa aveva anche informato coloro che in quel momento non potevano recarsi o essere presenti a Roma, ricevendo dagli assenti dei presenti una moltiplicità di risposte. Certo, anni dopo, Giovanni XXIII, nelle sue agende, notò che le sue parole erano state accompagnate e seguite da un devoto silenzio dai presenti nella sacrestia della Basilica di San Paolo fuori le mura. Certo, era una proposta forte, una proposta che era destinata a incidere profondamente nella vita della Chiesa, una proposta per molti inaspettati, una proposta che sollevava tante questioni su come celebrare nel XX secolo un concilio ecumenico. E su questa proposta cominciarono a rimbalzare tante notizie e informazioni che suscitarono speranze, preoccupazioni e attese. E fin dalla indizione del concilio, prima dalla circolazione della sua notizia, le speranze, le attese e le preoccupazioni furono dentro la Chiesa e fuori dalla Chiesa. Dentro la Chiesa cattolica e fuori dalla Chiesa cattolica, in tanti videro questo concilio come un momento nel quale riunirsi, discutere, parlare, ascoltare la voce della Chiesa e cominciare a costruire un tempo diverso, un tempo che senza rinunciare a niente della propria dottrina avrebbe sicuramente, così come Giovanni XXIII cominciò a dire, a fare, a spiegare nelle settimane che seguirono l'indizione del concilio, la Chiesa avrebbe trovato delle forme nuove con le quali parlare a tutti, con le quali costruire un dialogo con tutti, dentro la Chiesa e fuori dalla Chiesa, per rilanciare la propria missione, che aveva bisogno di un aggiornamento nella forma, ma che aveva un patrimonio straordinario di verità di fede, ancora da vivere, da testimoniare e da conoscere, dalle quali partire per dare agli uomini e le donne del XX secolo una parola di speranza e di gioia. Grazie a tutti!